Gli istituti sono nella fase di orientamento scolastico in previsione delle iscrizioni che saranno aperte dall'inizio del prossimo anno e anche il liceo Piero della Francesca segue un po' questo iter. Preside, qual è l'offerta formativa del vostro istituto? Bene, l'offerta formativa del nostro istituto è un'offerta completa e oserei dire moderna e attuale anche per il territorio in cui viviamo. Quindi ormai abbiamo le sezioni storiche di liceo artistico, il liceo artistico ad Arezzo, allora istituto d'arte dal 1960 con degli indirizzi moderni ma legati anche al territorio, quindi tutto il mondo legato all'oreficeria, il mondo legato alla moda, alla stampa su tessuto, ma abbiamo anche gli indirizzi moderni di multimediale, multimediale cinema e grafica, siamo in un mondo della comunicazione, in questo momento stiamo facendo comunicazione. I nostri licei artistici sono un po' il nostro fiore all'occhiello, ma abbiamo anche l'unico liceo coreutico della Toscana, il liceo della danza, che insomma teletruri abbiamo visto spesso delle immagini del nostro liceo coreutico, quindi un modo per frequentare un liceo ma per seguire una passione come quella della danza e poi i nostri licei scientifici che al di là del liceo scientifico tradizionale abbiamo il liceo scientifico col potenziamento delle materie scientifiche, il liceo scientifico STEM e l'internazionale con la possibilità di studiare oltre l'inglese potenziato una lingua internazionale oltre che economia politica e diritto politico, insomma degli indirizzi che si inseriscono nel territorio e per noi è importante con tutta una serie di collegamenti con aziende e realtà del territorio e che valorizzano proprio la voglia dei ragazzi probabilmente di affermarsi nel terzo millennio. Si dice che il modo migliore per valutare la bontà di un titolo di studio consista nella capacità, nella possibilità che questo titolo di studio offre a chi lo consegue di trovare un lavoro, di trovare un impiego. Voi avete questa particolare situazione, l'avete al centro un po' della vostra azione? Assolutamente e infatti in particolare nei nostri licei artistici che sono quelli che in maniera più diretta possono dare uno sbocco di lavoro nonostante che siano licei abbiamo mantenuto una forte parte professionale, professionalizzante grazie anche al contatto importante e continuo giornaliero che abbiamo col mondo del lavoro. Questo consente ai nostri ragazzi di avere una porta aperta nel futuro da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista universitario perché poi tanti dei nostri ragazzi continuano all'università con bei risultati. Chi viene a studiare qui troverà anche delle strutture nuove, rinnovate, non solo dal punto di vista direi strettamente didattico ma anche da quello dell'accoglienza. Beh guardate siamo qui nel nostro giardino dell'incontro e delle idee e per noi questo è un simbolo di tutto quello che poi si trova anche dentro, laboratori nuovi, ambienti 4.0, un'accoglienza importante ma noi abbiamo creato proprio questo spazio e ora siamo all'intervallo, ci sono un po' di ragazzi in giro, tra l'altro l'intervallo l'abbiamo implementato di 5 minuti e non è poco proprio perché vogliamo essere una scuola accogliente e l'idea è proprio questo, io arrivo la mattina a scuola e sono contento di esserci venuto. Questo messaggio passa tra i ragazzi e per noi è un ottimo risultato perché dà più motivazione allo studio. Grazie.